si le cuffie, le casse accese? no no no, le casse, non c'è niente se entrava per il microfono vedevo il microfono acceso Retech, prova a parlare con con il gioco basta e vedi che ti fa ritorno, no? adesso aspetta che stiamo a fare questa cosa c'è anche il conto alla rovescia adesso ho messo davvero bello oh vieni giù fare si oh è una mossa sto guardando cosa stai a guardare vai via giù ma insomma è arrivato i mostri da tutte le parti ah pensavo che è un figlio ce l'avevo tutti intorno e continuo ad arrivare hai aperto il barco? si si la vedo io in bar come? la barra alla vedo sei sei buggato sei nabbo sei 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 E' ora che butti via il computer tuo Che schiama Retech? Ha già finito? Ha già finito, manca i cani proprio E' velocissimo